Lo sviluppo delle tecnologie quantistiche, che sono il futuro, andiamo verso quella direzione. Si può fare? Sarebbe bello farlo in Portovecchio. Certamente. Chiaramente come ricercatore, come scienziato, posso immaginarmi un futuro per il Portovecchio legato alla ricerca. Quindi ricerca di base, ricerca applicata, sviluppo tecnologico e poi output per le aziende. Quindi la ricerca come motore per l'economia, o uno dei motori per l'economia. I computer quantistici riescono, o promettono, perché li stiamo ancora realizzando, promettono di risolvere problemi complessi più velocemente dei computer classici. Quindi questa è la scommessa, questa è la speranza. La domanda è perché fanno questo? Lo fanno questo in base alla legge della fisica quantistica. E un modo per vederla è che un singolo computer quantistico riesce a lavorare come tanti computer in parallelo classici. Riesce per il principio di sovrapposizione delle proprietà della meccanica quantistica, non so se le sento parlare del gatto di Schrodinger che vive e morto. Sono tutte un po' metafore per indicare che un sistema quantistico può essere in più state allo stesso tempo. Quindi un computer quantistico è come fosse più o meno tanti computer classici allo stesso tempo, quindi più potente. E quindi la possibilità di attrarre anche altri ricercatori in una città dove la ricerca è comunque al top. Sì, sì, secondo me il Portovecchio ha tutte le possibilità. È un luogo affascinante per poter attrarre il Portovecchio, ma con la città stessa. I ricercatori più ambiziosi hanno molte possibilità di scelta per dove andare a lavorare e quindi guardano anche al posto, se è un posto bello, se è un posto che può offrire possibilità. Trieste, il Portovecchio ha certamente questa possibilità. Quindi costruire spazi, utilizzare gli spazi per costruire istituti, laboratori adeguatamente attrezzati in un contesto che è sicuramente attrattivo ed è anche già conosciuto nel mondo. Ieri il professor Stefano Fantoni ha anche detto sogno una Trieste Valley, cioè... La sogno anch'io, certamente. Addirittura avere un'area veramente destinata a produzione, innovazione, studio, ricerca. Questo porterebbe beneficio anche economico alla città? Ha garantito. Anch'io ci condivido pienamente il sogno del professor Fantoni. E tornando al tema del Portovecchio, il Portovecchio potrebbe essere una Trieste Valley, cioè un posto, una Silicon Valley in miniatura, ma neanche tanto, perché la Silicon Valley è poi distribuita, non occorre distribuire le cose, in cui ci sono grandi aziende tecnologiche, IBM, Microsoft, è facile sognare, che affiancano istituti di ricerca, da cui poi, dalla cui collaborazione nascono degli spin-off, delle start-up, e quindi si crea un ecosistema, me lo immagino che Fantoni intenda questo, un ecosistema scientifico-tecnologico che porta posti di lavoro, benessere, innovazione e una vita migliore.